Amiche buon giovedì! Madonna mi confondo con questi cambiamenti continui di giorni per i vostri video. Allora sembra Pasqua secondo voi? Per il tempo no. Per il tempo no, oggi è veramente tristissimo. Ma noi siamo qui con tutte le news della settimana perché ce ne sono state tante e perché ve le dovete gustare tutte. Allora ci siamo trasferiti in un angolo del piano terra di Marilyn Style a Cassino che non avete mai visto. E questo è il retro del montacarichi che conduce al piano superiore. Bellino vero? Sì. Dobbiamo sistemare qualche nevone in più. Va bene, allora arrivi settimanali di Imperial, Dixi, Reicolo, Contato, Susimix eccetera. E le girls sono due oggi. Lucrezia come stai da 1 a 10? 10. E allora dai. E la Susanna? Bene, al top 10 anche io. Tutto bene. Va bene, ottimo. E invece Michele e Maria? Tutto bene. Anche noi. Va bene. Allora io sto bene, sto bene perché niente, voi da domani ci dedichiamo alla vendita e a clienti. È certo. Perché ogni volta che facciamo un video amiche dovete sapere che dopo c'è lo sconvolgimento. È passato un tsunami e quindi le due ore di dopo sono un attimo tridite. Va bene, anche le due ore di metà di prima. Anche quella della mattinata, però va bene. No, dopo è peggio, è peggio. Va bene, allora, concentratissime con le news. Comincia Lulli perché se Pasqua e Pasquetta deve essere, sperando che smetta di piovere, tirare vento e fare freddo. Perché secondo le previsioni le temperature dovrebbero anche salire. Quindi noi ci siamo portate avanti, abbiamo immaginato già. Allora, naturalmente non mancano i giuppini jeans. E questo, che è un amore tipo Spencerino denim di Susy Mix, ci è piaciuto tantissimo. Quindi è arrivata all'inizio settimana due modelli di jeans nuovi, innovativi, con dei prezzi piccolini che poi Lulli andrà a scovare. Abbiamo abbinato lui, che è troppo bello, con il nuovo abitino di contatto a fiorellini. Perché non è Pasquetta, eccetera, senza un po' di fiori. E ora cominciamo. E nelle tue corde? Assolutamente sì, tutto ciò che è molto dolce mi piace sempre. Esatto, abbinato la piccolissima micro bag di Bicolo, che c'è anche nel celeste e nel rosa. Quindi tre toni pastello bellissimi per la vostra Pasqua e Pasquetta. Quanto viene? 79,90. Quindi anche ottimo il prezzo. È bellissimo. Ci scommettiamo che vi piacerà moltissimo. E volendo le maniche possono essere ristrette. Ok. E quindi si crea quell'effetto caramella molto bello. Tipo anni 90, portato appunto con i polsini ristretti. Bello. Le slingback platino che avete visto anche nel video di ieri. Perfette. Su, cominciamo. Forse comincerà a far caldo. Cominciamo ad accorciare le gomme. Va bene. Che avevo pensato alternative per questo look. Mi sembra di no. No, per il tuo tutto tranquillo. Oh. Allora, invece no. Lucrezia l'avevo pensata. Vieni qua. Aspetta Susanna. Perché ci siamo preparate anche il piano B. Metti che amiche non amiate andare in giro con il giubbottino. Ecco che possiamo rendere più legato. Questa la dobbiamo raccontare. Ogni look ha il suo bigliettino. Giriamo con i pizzini. Onde organizzarvi anche delle alternative di stile. E lei è la giacca di vicolo che riproponiamo alla vostra attenzione. Perché è sempre quella a codice separato che ha poi tutta la sua famigliola alle spalle. E' ovvero il gilet, il pantalone con l'elastico ed il pantalone largo. Quindi amiche ci siamo presa la giacca perché è un punto di rosa bellissimo per rendere più elegantino poi l'abitino. Ma questo lo potrei mettere sopra al vestito sotto la giacca? Certo che sì, vai. Andiamo in diretta così. Nella vita non pensavo nel video. Sì, oggi lo dovevamo chiamare il videotrasformista. E lo chiameremo proprio così. Vai. Interpretiamo in un'altra maniera il look perché è molto carino. Col gilet portato aperto. Bella. Molto simpatico così. Dunque tutti i pezzetti di vicolo e l'abitino nuovo a contatto. E la bozzina. Eccola. Carinissima. Carino carino. Passiamo a Susella. Amante del rosa confetto. Quindi non potevamo che cominciare con il rosa assolutamente. Allora è il tagliere di contatto che l'altra settimana avete visto in blu. E sono due i punti di colore. È fluido il tessuto. È veramente piacevolissimo. E l'azienda continuerà ancora con questo materiale. Quindi il rosa e il blu. E arriveranno dopo Pasqua intorno al 10-12 così anche i primi taglier con i bermuda lunghi. Quindi semplicemente si accorciano le lunghezze. Ma mi amo tanto anche l'idea del bermuda. Per cui arriveranno i taglier con il bermuda proprio nel latte e nel blu. Completa il tutto una bella maglia di un nuovo brand. Piccolo brand sempre molto di ricerca che si chiama Anonim. E il maglioncino ha proprio questo effetto re-quido d'ape in filo. Perché di maglia in filo ne sono arrivate molte. C'è veramente voglia dei filati così diciamo coccolosi così. Veramente anni 70 molto carini. Quindi celeste profilato di rosa e di bianco. Quindi un abbinamento proprio pasqualino. Mescolando due colo di pastello. Divertenti moltissimo. Va bene. Allora andiamo a vedere. Ah e naturalmente le slingback di Ovvie che conoscete. Quelle cammello e celeste. Celeste. Bello. Va bene. Tutto bene con il secondo look Lucrezia? Sì, è giusto. Mentre invece io vi racconto che indosso il pantalone palazzo di Imperial Nuovo. Molto bello il punto di blu che è leggermente fiammato. E questo pantalone in arrivo domani è anche nel grigio, nel panna, nel nero. Perché è un pantalone immancabile. Che abbiamo apprezzato fin dall'inverno... Guardate quanto è bella. No, io stavo parlando di dire... Fin dall'inverno... Dillo che ti piace questo paio di pantaloni. Tanto, tantissimo. Lucrezia sta scegliendo quale paio di pantaloni si deve abbinare con la sua camicia. Quella a maniche larghe della settimana scorsa. Perché voi pensate che con il video noi influenziamo voi. Ma noi ci auto-influenziamo. Certo. Succede a tutto. Anch'io, ogni look che mi metto alla fine del video dico no. Questo me lo prendo perché mi è piaciuto moltissimo. E quindi vi dicevo la camicia con questi polsi un po' abbondanti di Ev One. Molto carina. Sempre con la stampa di cui vi abbiamo raccontato. Bucolica Tuol de Juiz. Molto bella. Ev One. Pantaloni Imperial. È super chic il tuo look. È bello. No, no, è bello. Sarebbe bellissimo anche con un jeans un po' stracciato, un po', eh? A renderlo ancora più strong. Però così, molto a mio agio. A proposito, taglia small. Quindi, amiche che avete la 42, insomma, questa taglia va benissimo small. Per la Lully? XS a vita media. A vita alta lo pizzico. Esatto. Partono dalla XXS. Allora, vai, raccontiamo di questa bellezza immaculata. Eh, qui, Giziana, ti sei proprio data il contrasto di stili, no? Esatto. Perché è arrivata la nuova gonna con la stampa animalier di Susi Mix, troppo carina. C'è tutto un pacchetto, anzi. Quindi, aspettate che mi sono preparato il Lucrezia Look numero due. Ok. E quindi, ecco tutte le alternative al look che vi mostra la Lully. Eh, sempre qualche errore. Poi all'ultimo c'è il bello della quasi diretta. Facciamolo vedere prima per bene, Lu. Allora, è ritornato il chiodino. È di Susi Mix, lo avete chiesto moltissimo e diciamo che se lo abbattono due tipi di stile. Dal chiodo over che vedrete tra poco al chiodo molto avvitato che sarà divertente indossare proprio con la gonna animalier un po' romantica. Oppure, pantalone fluido, sempre Susi Mix, per quante volessero creare un look total animalier, c'è anche la camicia da portare annodata davanti. Così da fare quasi una tuta. Bellissimo questa idea pure. E poi, siccome non potevamo non farvela vedere, ma siccome oggi le modelle sono due, non si riusciva ad indossare tutto, vi guardate in questo momento due chicche di stile. Quindi la camicia ancora Susi Mix che viene 49,90 con la scapola in vista, diciamo, con i cut out sulle spalle. Solo color avorio, burro. Ma quanto è bello? Molto. Oppure questa meraviglia di t-shirt. Ok, più cittadina forse. Che bella, eh? Molto, molto riutilizzabile. Con inserti di tulle e cotone stretch di Imperial. Guardate che bella, e vi diciamo anche il prezzo di lei, anzi diciamo tutti i prezzi. 55. Solo nera per il momento. 59,90. Marcia. Troppo buono il prezzo del chiodino, ma di tutto il pacchetto, perché il pantalone morbido viene 39,90 Lulli. E la camicia viene 59,90. Ci sembra un pacchetto da sposare per intero, o no? Verissimo. Bellissimo. Quale soluzione ti piace di più? Io forse farei tipo effetto Duda. Effetto Duda. Camicia e pantalone è obiettivamente giustissimo. Farei l'effetto Duda. Va bene. Decolte ancora le platino nuove. Sì, sono benessi tutto. Va bene. Ed arriva la Susi. Susi numero due. Giusto? Forse. E qui evidenziamo il paio di pantaloni più venduto del nostro store. E sarebbe la zampetta di Imperial in crepe bistratch, che è l'alternativa alla sigaretta, sempre di Imperial, i due modelli che completano poi il tagliere più venduto, da due o tre anni a questa parte. Ma anziché mostrarvi il tagliere che più o meno conoscete, ma ora ve lo ricordiamo, abbiamo abbinato il pantalone a trombetta bellissimo, nero, 65 euro, con la nuova camicia di Imperial in questa georgette stupenda a poire. Perché qualcosa di qua ci doveva cominciare a stare e questa camicia l'abbiamo trovata bellissima. Sia per un fit più stretto come il pantalone di Susi così in zampetta, sia per esempio appena indosserete quella camicia con il pantalone largo palazzo nero, perché insomma è tanto stiloso il tutto. Con il chiodo bellissimo di Susi Mix, che vi dico quanto viene, ecco belle, viene 69,90 ed è un amore anche lui. Lo puoi anche abbottonare, Susi che lo facciamo vedere così. Quindi anche in questo caso, Pasqua carina, stilosa, passeggiata al mare se Dio vuole, possiamo utilizzare il chiodo nuovo, chiodo bluson, oppure naturalmente non manca mai la giacca più formale, che va bene, la sapete a memoria, è sempre quella di Imperial, la fanno tante aziende, tante aziende fanno ormai questo tagliere, ma insomma noi continuiamo a ricomprarvi lui, perché assolutamente ci piace moltissimo il fit, è collaudato, ne avrete sicuramente due colori in armadio, ed è sempre lui il tagliere numero uno, che arriva settimanalmente di nuovi colori. Quindi magari potremmo anche non farvelo vedere, ma invece lo facciamo vedere, perché è sempre il più giusto in assoluto, come anche quando cercate una giacca singola da mettere con tutto, lei è veramente molto bella. Aspetta che tiro dentro tutti qua, e Susi ve lo ricorda che c'è sempre di assortito. Quest'anno, devo dire la verità, lo amate molto col pantalone trombetta, eccolo qui, ma nel frattempo è finito il sigaretta, quindi alla fine vanno bene entrambi. Va bene, molto bello questo amminamento, mentre, quindi l'alternativa l'abbiamo vista, ed arriva l'ullina, perché chiaramente se il tempo ci dovesse assistere, cominciamo ad avere tanta voglia di saten, e ne abbiamo comprato tanto, consistente, bellissimo nei colori, per esempio all'interno della collezione di Dixie Primavera e Estate. Quindi gustatevi quanto è bello. Questo bomber blu, veloce veloce, sempre quello da, sono sempre io, niente. Comincio dal pezzo che più mi ispira, no? E stavolta era il sotto. Invece è molto carino, il bomber di Lokita, in un bel tessuto, da 59 euro, è un amore, con questo elastico sul fondo, e non c'è niente da fare, il bomber rinnova un po' tutti gli stili, diciamo, no? Perché li rende subito più moderni, da quello sprint in più al look. Anche se questo look già di sprint ne ha tanto. Perché? Camicia in saten rosa pastello, volutamente fluida, con pantaloni, con elastico, tasche, tasconi, e quella parte finale più ristretta, che mette in evidenza le shoes che metterete, che quindi sono dalle sneakers al tacco. Come ti senti in questo, Lucrezia? Sì, quando mi sento a mio agio faccio sempre quel movimento, così, quindi... Come lo vedi? Comodo, esatto, comodo. Ma poi, guardate che meraviglia, questi tessuti così scivolosi, che ci godremo moltissimo, veramente. Speriamo nel giro di poco, con, ecco qui, anche un'alternativa di colore, tirata fuori all'ultimo secondo ora, perché è qui, non possiamo non farvelo vedere. Quindi, le bionde come Lucrezia spazieranno dal verde, è bellissimo questo verde salvia, ma questo rosa non è da meno, Lucrezia sta comunque molto bene. Certo, su se l'avrebbe detto rosa. Su se l'avrebbe detto rosa, Lucrezia verde. Vi diciamo anche i prezzi. Dixie, 79 euro i pantaloni, bellissimi, e 59 euro la camicia. Le camicie di Dixie sono veramente stupende. Guardate i dettagli, proprio, del polsino con la doppia rifinitura. C'è sempre un tocco di originalità nei volumi fluidi, così, senza cuciture. Cioè, è bellissimo. Quindi, una bella collezione, quella di Dixie, magari molto estiva, quindi ce la godremo appena ce lo permette il clima. accessorio celeste, il contrasto. Dovevo abbinarlo alle scatte, Dixie. Mi piace volissimo. Ok, allora, e qui abbiamo visto, non cani io con Gio, dove capita. Ho l'alternativa? No, in questo caso no, l'abbiamo pensata. Se non mi sbaglio, non l'abbiamo pensata. Va bene. E qui ancora, un altro tema che questa settimana è stato molto forte, quello della stampa snake rettile, nei nuovi pantaloni con elastico in raso, con profilo verde di vigolo, abbinati alla nuova mini, che naturalmente ha l'abito tutto rettilario, molto divertente, carinissima, sì, sì. E qui abbiamo completato il tutto con il chiodo over, chiodo bomber, diciamo così, ancora quello di Sussimix, che lo vedete nella versione bianca. Ma guardate che ho combinato. Suss è il numero 3, alternativa alla giacca bianca in ecopelle, perché per quante non amassero il chiodo, ma è difficile non amarlo, perché è bellissimo e può diventare anche super elegante, magari portato con un pantalone largo nero, con la maglietta che abbiamo visto prima nera con i volanti. Ma c'è naturalmente la giacca over nera di vicolo, che continua ad arrivare, perché proprio lei, l'espressione massima del cabane over, nera in cotone, manica carina, proprio rigirata, perché sistema il volume, molto bello l'abbinamento così. Ormai queste giacche, diciamo, le amate, sono sdoganate, guardate che bella l'idea proprio, si porta al posto del cabane classico, del trench, quindi molto piacevole. Che ne dite ragazze? Molto bello, vero? Sì. E' molto bella le sling back, questa volta effetto paglia di Vienna, perfette con l'abbinamento. Naturalmente di ovvie. Questo paglio di scarpe è bellissimo, molto ricercato, sempre in pelle vera, sempre made in Italy, quindi garantita la comodità di tutte le shoes di ovvie, non che del nuovo brand spagnolo. Allora, sei a Lucrezia numero? Non ci sa, 4 ora vediamo. Ah, allora sì. Ok. E allora, e qui, per una Pasqua un po' più elegante, abbiamo pensato a una giacca, Oreo, burro, ma ce la mettiamo nera, ce la mettiamo blu. Veramente questa tuta nuova di Imperial consente tutti i tipi di sopra che volete indossare. Noi abbiamo pensato alla giacca informale, quindi Susi Mix color avorio, ma guardate che meraviglia questa tuta, che è una small, forse c'è anche la extra small, eh, credo che nella fretta poi qualcosa scappa sempre. Comunque alla Lully va bene anche la XS, anche se pure portata un po' coltina così bene. Comunque diciamo che per Lucrezia una taglia in meno, ecco, avrebbe avuto questo effetto un po' più sostenuto. Guardate che bella proprio l'effetto del cileno, che sembra quasi poggiati sui pantaloni, quando invece è proprio un unico. Bellissima, azzurra per il momento, ma io immagino. Sì, quando si dice due piccioni con una favola. Esatto, un cileno, un pantalone, e abbiamo una tuta meravigliosa. Questa è stata veramente ben disegnata. deve arrivare in bianco, deve arrivare in nero. Quindi, da tenere assolutamente d'occhio. È un pezzo, però il colore che ci ha accecate immediatamente, naturalmente è stato questo azzurro stupendo. E la giacca viene 79, e il cartellino non so che fine abbia fatto. Va bene, cercheremo. Maria, non te lo ricordi, no? Mi pare anche impossibile ricordarli tutti. Vabbè, provo a vedere se c'è l'impresso. Vedi se è cascato da qualche parte. Mentre invece, mentre arrivano le ragazze, vi tiro fuori dei pezzettini, le ragazze sono velocissime. Anche il giorno che sono in due, niente. Dimmi che primavera, senza dirmi che primavera. Me la metto tutta addosso la primavera, tutti i fiori. Quanto veniva la tuta? Mi sa che non era. Ah, è 122 forse, sì. Quindi la tuta di Imperial viene 122. Allora, nuovo completo. Possibilità di completo, ma se volete prendete solo la giacca, solo i pantaloni. Noi abbiamo voluto esagerare. Ed è di contatto questo nuovo arrivo con la giacca fluida, con tanto di spilla, fiore spilla staccabile, e pantaloni morbidi con elastico. E abbiamo completato con una canotta di contatto in saten. E qui ci sono tre pezzi, eh? Per dimostrarvi il possibile abbinamento. Perché per quante non amino, insomma, o sia un po' impegnativo indossare tutto il fiore insieme, c'è questa alternativa e ve la mostriamo. Quindi potremmo indossare il pantalone fantasia, che è bellissimo, con la camicia tunica da infilare un po' dentro, così. Molto bella la marica. Bellissimo di contatto. Così, sempre in contatto. E questo viene 59 euro. Oppure possiamo, e viene 75 euro, creare un tutto verde completamente, abbinandolo poi con la giacca. Giusto, Susi? Quindi è qui l'alternativa, tutto verde, il completo, con la giacca. Bellissimo così. oppure, terza alternativa, perché evidentemente questo satenne ci è piaciuto moltissimo, creare un effetto così, con la gonna e la canotta, o con la gonna e la casacca, che avevamo visto prima. altrettanto bello anche questo. Quindi creato così, effetto a gonna e tunica, oppure gonna e top più piccolino. Molto carini, Vi abbiamo detto un po' di prezzi, sì. Quindi 75 i pantaloni, 59 e la gonna viene 59 euro. Quindi un pacchetto bellissimo, ancora satenne. È un punto di verde diverso. Il pantalone è stupendo, i grossi larghi. Poi, molto bello infatti, sì. Ok, intanto che arriva Lucrezia, io vi mostro altre cose nuove che sono arrivate. Lunedì, per esempio, così andando un po' in modo randomico, come si dice, molto carine, tutte le t-shirt nuove di Susi Mix. Questa per esempio, con il numero in argento, è bellissima, e viene 29,90, quindi da portare sbrusata. Dove l'abbinate, mi sembra molto carina. E c'è sia in questa versione, che con una bella scritta New York, che piacerà a Maria. Con 29,90 lo stesso, con il logo New York City, carina, da abbinare anche molto bene con questo paio di pantaloni, che ci sta benissimo. Quindi, oppure, sempre da queste parti, una canotta, che è un amore, da mettere, per esempio, sotto i chiudini, che abbiamo visto, in ecopelle. Quindi, contatto, canotta, vogatore, costine, con tanto di spilla, che poi piazzeremo un po' dappertutto, carinissima pure lei, e viene 55. Poi, vi mostriamo anche, che sono arrivate queste canottine, che sono deliziose, sempre di Susy Mix, quindi, bianco e nero, con il fiore rosa, quindi carina, veramente, per tutti gli abbinamenti, un po' più grafici, del bianco e del nero, ma molto carina, semplicemente, con un jeans, con la giacca rosa, anche la versione così, più colori pastello, e viene sempre 29,90, sono carine proprio. Lulia, che ne sei, cara? Dietro di te. Che io mi, ah, ecco, allora, e qui abbiamo studiato, tutta una costruzione, che vi mostriamo. Allora, effetto college, molto carino, l'abbiamo costruito così, quindi, la giacca over, blu, di vicolo, proprio bella, con questa spilla fiore, che si può togliere, le giacca, che finora è solo il blu, poi vedremo. L'abbiamo abbinata, con la nuova gonna, di contatto a pieghe, ma quanto è carina, Luli, sembri uscito dal college. No, infatti è bellissima. Eh? Bella per me. E abbiamo completato il tutto, con la nuova camicia, di Susie Mix, proprio college americano, deliziosa, perché ci piaceva, questa idea, delle righe, con le righe, e proprio questo gusto, un po' anni 70, ma sono molto 70. Se non che, alle amiche a cui, diciamo, non piacesse questa idea, oppure che magari vogliono indossare di mattina questa, e di pomeriggio vogliono dare un senso diverso al look, la maghetta Udv, di Marilyn Style, indossa, proprio, questa meravigliosa nuvolina di tulle, di Imperial, nuova, appena arrivata, che a dire il vero, è compresa della sua canotta, tipo una canottina in satene leggera, ma in questo caso, l'abbiamo lasciata, con la canotta, quella di contatto, la basic, dalle spalle morbide, ma guardate quant'è carina, non lo so, noi ci siamo innamorate, di questa storia, qui perché, immaginatevela, anche con il jeans, più invecchiato, più largo, più scolorito, penso che sia, un contrasto di stile, particolarmente bello, sulle spalle ho indossata, devo ammettere, la giacca blu, sì, bene, bene, su, scegli anche tu, poi qual è il tuo preferito, perché Lucrezia ha già scelto, non mi sono un po' dora, ma questo non è l'ultimo, ce n'è un altro ancora, e allora, andiamo a metterle ancora un altro, con gioia, dei copriere, e di due clienti lì fuori, ma io intanto, ah, ecco, perfetto, allora, guardate che meraviglia, anche questo, il nuovo jeans canvas bianco di piccolo, che ripercorre il successo di quello in tela tenima, e che naturalmente è arrivato bianco, ve l'abbiamo abbinato in una versione così pasqua, colori pastello, fresca, e molto femminile, con la piccola giacca Chanel, che è ancora di Susie Mix anche lei, e con la magliettina di tulle doppiato, che è arrivata questa settimana, un abbinamento che è un classico di stile, che però ci piace sempre, non mi, ah, ho scelto anche un piano B, anche per questo look, e vi diciamo i prezzi al volo, perché la magliettina viene 29,90, prendete nota amiche, la ciacca viene 69,90, 69,90, che è un amore, e il tutto poi si potrà combinare tutto sui toni della rosa, che anche questo insomma, niente, rose celestici piacciono da morire, e se non volete la giacca Chanel in maglia, ma penso che la volete, perché è bellissima, c'è in alternativa, bella anche la giacca, ancora Susy Mix, ci sono delle medie, però sono belline, perché portate anche leggermente over, sono più che gradevoli, carina anche così, manichetta da girare, questa giacca è piaciuta tanto, perché poi viene 59 euro, quindi è un prezzo che è molto simpatico, e vi è piaciuto molto, quindi bella anche l'idea, del look tutto così, va bene, allora, intanto andiamo a metterne un'altra, un'altra? Sì sì, quanti ne abbiamo preparati? Forse se vuole entrare qualche collaboratrice, può entrare, a quanto stiamo? 27, amma mia un disastro, mi sa che stavolta sforiamo, sempre in questo quartierino, vi voglio far vedere un'altra camicia da non perdere, perché è bellissima, viene 39,90, quindi per le amanti del rosa, molto carina anche lei, sempre Susi Mix, e secondo me ci dobbiamo accelerare proprio, con un finale molto bello, che è quello della giacca jeans corta, quindi è il secondo blusone che è arrivato, il primo l'avete visto proprio nella prima uscita di Lucrezia, ancora Susi Mix, abbinato con la maglietta con l'effigie di Iris Apvel, 102enne che purtroppo ci ha abbandonati, ma che rimane come icona di stile, ma guardate Susi Mix quanto l'ha disegnata, agghindata e sistemata bene, proprio così come lei era, e noi ci auguriamo di invecchiare come lei, con una testa sempre proiettata verso il bello, verso la gioventù, io voglio diventare come Iris, però bisogna arrivarci in salute, fino a quell'età, ma è stata veramente un genio di originalità, insomma di stilosità, allora con il jeans nuovo del piccolo brand Lokita, carino da morire, perché è un po' lusa anche lui, e ha questo risvolto tempestato di brillantini, Susella che ne sai amore, siamo stati capaci di superare i trend da oggi, quanto è bellino Lulli, comunque il tuo preferito era il college blu, non posso farci niente, scusate ho ragione, è bellissimo quello, in piena età scolastica è chiaro che si ha maramini a pieghe, e soprattutto il blu che fa molto buon tono, e comunque è bellissimo, concordo anche, poi ho un serio problema col blu, qual è? Lo amis, in ogni sua manifestazione, e invece siamo anche pronti a innamorarci, proprio dello stile tuta, che continua a imperversare, e in questo caso c'è la nuova tuta, in felpa leggerissima di contatto, arrivata nel grigio, molto pratica la tuta, la amiamo, la rendiamo elegante, magari con la borsa super stilosa, e col tacco, insomma, molto evidente, qui vi abbiamo proprio dipinto, una pasquetta molto sportiva, accompagnando, quindi questa maglia over, di contatto con i pantaloni, con l'elastico, con uno degli ultimi per ora, ma riarriva, no? E riarriva anche domani, in versione cappuccio a Maria, perché le ho ordinati di corsa, bomber in neoprene di vicolo, 99 euro lui, c'è ancora anche nel color latte, si accettano prenotazioni, su whatsapp, al 366-1977-300, ma riarriva anche domani, nel blu, nel beige e nel nero, col cappuccio, molto simile, quanto era bello? Bellissimo! Allora, vi salutiamo di corsa, per non dividere il video, su Instagram in tre, che sono veramente troppi, vi mandiamo un bacione, seguiteci, ed a prestissimo, buona Pasqua! Buona Pasqua! A buona Pasqua glielo diremo anche, ciao! Ciao!